Sì, mi sa che dovevo andare a sinistra Adesso controllo Ehi là, quel castello lassù E' Brienson Fra poco ci passo e proseguo Quindi dovevo fare il col dell'autorette E poi il col du Galibier Che è il passo che voglio fare oggi Che è molto bello Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mancano 10 chilometri circa Al col dell'autoretto Grazie a tutti 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 Quando uno è coglione, è coglione, perché ti metti a sorpassare un ciclista in una curva così, dove c'è comunque anche una certa velocità, potendotene che dall'altra parte arriva qualcuno, lì meno male che sono riuscito a risollevare la moto, rallentare un pelo, rimetterla in traiettoria perché sennò finivo sul muro, siccome i deficienti sono dappertutto bisogna stare attenti, perché in moto è ancora più pericoloso che in macchina, comunque tutto a posto, solo un pizzico di spavento. Ho sentito Giorgio e probabilmente ci vediamo a verità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono fatto dare da Giorgio la posizione e adesso vi raggiungo il piazza della Repubblica a Susa. 9 minuti. Buongiorno. 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 Buongiorno.